FWG Labor è un progetto dedicato ai ragazzi e le ragazze della nostra regione, del figlio di Venezia Giulia, dai 18 a 35 anni che hanno voglia di trasformare la propria idea, il proprio progetto, i propri sogni in un'impresa, in un progetto d'impresa. Questo progetto, finanziato dall'azione giovani del UPI, perciò l'Unione Provincia Italiana, vede come lead partner UPI appunto regionale con tutte e quattro le province della nostra regione. Come funziona? Funziona che abbiamo fatto uscire il bando, il bando resterà fuori fino al 5 di febbraio, data nella quale chiuderemo l'invito a presentare proposte. Da quel momento in poi una commissione selezionatrice selezionerà appunto per ogni provincia sette progetti che potranno accedere a una fase che si chiama Accademia, che si svolgerà in ogni provincia. L'Accademia sono 26 giornate formative, nelle quali i ragazzi e le ragazze potranno usufruire sia di una formazione esperienziale sulle proprie competenze trasversali, personali, il public speaking, il problem solving, la gestione dello stress e anche delle riunioni, cioè tutte quelle competenze che ti permettono di sorreggere il tuo progetto d'impresa. Mentre l'altra metà, diciamo, delle giornate formative sono dedicate proprio alle vere competenze tecniche, perciò al budget, al business model, al business plan e alla progettazione. In questo progetto, oltre ai quattro province, sono impegnati molti e molti interlocutori. Ci sono le Camere di Commercio, le Università, le associazioni datoriali, l'EgaCop, nell'intenzione e nella consapevolezza che tutto il territorio si sta mobilitando per sorreggere i progetti d'impresa. Nel senso che in questo momento storico l'occupazione giovanile è una questione della comunità e la comunità si sta attivando appunto per creare gli spazi, le opportunità e le risorse in rete per sorreggere questi progetti. Progetti che dovranno avere e danno delle finalità verso il benessere del territorio, perciò riguardano le tematiche di persona, ambiente e comunità, dall'innovazione tecnologica a quella sociale, innovazioni che sappiano creare del benessere a bisogni che sono insoddisfatti. Facciamo un esempio, oltre perciò i servizi della persona, anche gli stili di vita, l'educazione della salute, le imprese culturali, la ricezione anche del turismo, turismo sostenibile, riqualificazione urbana, riattivazione dei beni comuni, in una visione appunto che in questo momento l'importante è che per un'impresa sia il radicamento, lo scambio e l'impatto sociale che ha sul nostro territorio. Alla fine, perciò a metà di maggio, quando finiranno le Academy, ci sarà un ulteriore momento di selezione. I sette progetti impegnati su ogni provincia presenteranno i propri progetti alla comunità in eventi aperti al pubblico e da questi eventi uscirà appunto un progetto vincente per ogni provincia che riceverà 12.000 euro per un inizio di start-up. Start-up che verrà anche accompagnata con delle figure di facilitazione dedicate nella fase di missione, sempre una consapevolezza che oltre le competenze tecniche siamo in un momento storico dove possiamo essere accompagnati e sostenuti in quello che può essere il nostro lavoro del futuro. Il consiglio è quello di sentire dentro di sé la voglia, la spinta, l'energia che forse un'idea veramente può spiccare il volo, perciò di buttarsi un po' e sapere che in questo momento ci sarà una rete delle persone che accompagneranno questo percorso.